Esprimo le mie sentite condolienze per la scomparsa ieri sera del rabino Elio Toaf, già al rabbino capo di Roma. Sono vicino con la preghiera al rabbino capo Riccardo Di Segni, che a breve dovuto essere qui con noi, e all'intera comunità ebraica di Roma, nel ricordo riconoscente di quest'uomo di pace e di dialogo che accolse il Papa Giovanni Paolo II nella storica visita al Tempio Maggiore. Papa Francesco ricorda così la figura del rabino Toaf nell'incontro con la delegazione della Conferenza dei Rabbini Europei. Sottolinea poi i progressi fatti e l'amicizia che lega la Chiesa Cattolica e le comunità ebraiche a 50 anni dalla dichiarazione conciliare Nostretate. Il Pontefice mette anche in luce la tendenza in Europa a relegare la dimensione religiosa in una sfera personale. Gli ebrei cristiani, afferma, sono chiamati a testimoniare in una società secolarizzata e minacciata dall'ateismo la santità di Dio e quella della vita umana. A preoccupare Francesco anche le tendenze antisemite e alcuni atti di odio e di violenza che ogni cristiano deve condannare, manifestando al popolo ebraico la propria solidarietà, così come sono da condannare gli attacchi contro i cristiani e contro i fedeli di altre religioni. Il ricordo della Shoah, sottolinea con forza il Papa, serva da monito alla presente e alle future generazioni.